21 21 confermato te lo confermo grazie scusatemi per l'inconveniente per questo forse si domanda anche chiedete a marco dovrebbe sapere che sto fuori per lavorare per poco non la prende invece è il gol aspetta aspetta adesso aspetta dai che c'è a fare? teo sai vieni qua vieni qua vai dai dai non molliamo non molliamo coprila Giulio mandalo Giulio davanti forza Fede che faccia sali batti ricca sali volo forza Fede lì dai infatti 1 a 2 vai geniale teo ma lo vedi che c'è nuova guarda leo dai 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 non andata addosso dì dai 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 Siamo all'accefillati, quasi tagliati, stai, stai. Allarga il tuo agire. Guarda, 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 guarda. appoggi appoggi guarda la parola, guarda la parola vai Alenzo prima, prima prima prima, prima prima dove vai? vai da vai da a lei a lei come prima no? bravo buona buona lei buona 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.